Dopo il Covid, il Covid è questo mostro, questo Basilisco, Basileum, insomma questo elemento che ci ha portato a una disperazione straordinaria, rinasciamo e anche a livello iconico di immagini dobbiamo trovare immagini nuove, immagini sintetiche, immagini astratte, concettuali. L'Occhio del Basilisco è il titolo dell'evento fotografico di Francesco Maria Rossi, ospitato al Circolo Aurora di Arezzo in parallelo con la rassegna musicale di Voci di Donne. Sono fotografie quadrate, stampate su carta e fatte col mio telefonino, quindi in modo molto semplice, però diciamo che hanno uno sguardo nuovo sull'immagine, dopo il Covid, dopo questo dramma, anche l'aspetto iconico deve essere affrontato nuovamente, quindi sono immagini astratte, immagini concettuali che citano se stesse, immagini legate a un concetto nuovo di fotografia, come se guardassi le cose per la prima e l'ultima volta. 25, gli scatti in esposizione. Io mi sono rifatto alcuni grandi fotografi, come Ghirri, come Fontana, come Mimmo Iodice, anche questo concetto di sospensione del tempo, di astrazione, questo è un mosso, vedete il Duomo di Arezzo, questa è una foto che si rifà al doganiere, il pittore naif ottocentesco, questo è un vegetale che è sopravvissuto nel cemento di una zona industriale, insomma diciamo che sono fotografie che vogliono dare un nuovo sguardo alla realtà che tutti i giorni ci troviamo intorno, ma che spesso non percepiamo nel modo giusto, nel modo più profondo.